Guarda, forza Elena, dottor Lopo, faccia vedere, faccia aprire i gasini, li fa falle, i dirannotauri, tutte le cose. Ma adesso lo mettiamo qui. Nel vada qui. Eh, su, dai. Vuole agitare un po' anche lei? Vuole divertire? Guarda, basta, 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 dottor Lopo. Guarda, 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 guarda. Partitina a carte, eh? Guarda, partitina a carte, dottor Lopo, ma dove pensa di stare lei? Qua siamo al lavoro. Per favore, per favore. Ma quando arriva il dottore? Eh, che ti devo dire, Elena, sarà per arrivare, non lo so perché, magari lo richiamo. Si sta mettendo in sacco. Avanti! Salve, buonasera. Salve, dottor Tresi, salve. Ciao. Oggi siete in due? Oggi siamo in due, sì, perché lui è un laureato specializzato nel fare il dottore. Lo presento, si chiama dottor Lopo. Salve, dottor Lopo, salve. Allora, 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 ci dica un po', signora, questa piccolina che cosa c'ha questa volta? Eh, ha avuto un po' di febbre, mal di vola, tosse, raffreddore. Oh, basta? Tutto qua? Solo questo? Si. Eh, allora, già c'è un principio, eh? Ma non si preoccupa. C'è qualcosa che non va? Eh, potrebbe, potrebbe, io non vorrei, ma non me lo faccio a dire, non me lo faccio più. Forza, allora, adesso abbiamo, dottor Lopo, mi passi pure la, la, la cosa, lì, come si chiama, la, la cosa? No, no, ma no, la febbre, è il coso della pressione, per favore. Grazie, grazie. Lui si sta specializzando. Sì, lui si sta specializzando. Eh, è un buon, è un bravissimo, eh, guarda. È il suo assistente. Sì, è il mio assistente, è molto delicato, devo dire, molto, molto. Bene, abbiamo già premuto tutto quanto qui, guarda, per favore, tenga la testa in alto, per favore. Bravissimo, perfetto. Guarda, 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 le mucche, guarda la mucca. Guarda, l'uccelino, l'uccelino, guà, guà, l'uccelino, l'uccelino. Eh, guarda, ma tu uccisi, non si sente. Bene, adesso, ma che stai facendo? per attaccare il pene è giusto stai ferma adesso forza veramente già la vedo lei cosa ne dice dottor Locu guardi qua no fa no con la testa fa no con la testa è già alta adesso è il dottor Locu metta questa questi specializzanti guardi non sono più quelli di una volta veramente ma poi qua come vengono questi cappellini allora mi passi sì per la bocca la bocca devi fare la bocca adesso su su devi fare a solo sul 99 va bene va bene 99 è ottimo ma non voglio dire non voglio dire ma ce lo teniamo apra la bocca pacea 2 cariette io le ho viste non vorrei dire grazie ok adesso ci sarebbe una piccola una piccola puntura ma guardi una roba leggera leggera non la sentirà nemmeno lei non mi fido guardi guardi dottor Locu guardi che bello guardi 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 che bello che bello in realtà non si dica niente però abbiamo fatto lo stesso poi detto questo dobbiamo anche sentire un po' prego prego faccia lei perché lui lo specializzando lui deve fare su tu respira respira mi racconta lei deve sentire il cuore il cuore il respiro che dice non si sente niente niente proprio non c'è batti non c'è batti se non so non si sa detto ciò dottor Locu secondo me un test ci vuole se io non lo volevo dire un test ci vuole il test il test del tampone peiconi eh sì 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 solo poi ci sapremo se è negativa o positiva per questo siamo i due proprio per l'onda proprio eh abbiamo capito forza forza allora dottor Locu riprenda no quella è un'altra puntura per altre cose non ci serve allora guardi guardi per favore per favore sì giochi giochi lei giochi con le cose sue per favore me ma sta tutto tutto tocca tutto tocca questi specializzanti allora ci serve dobbiamo farle tutte le prove tutte adesso dopo cosa gli scrivo nel foglio che gli lascio tu quasi libero quasi libero eh ci abbiamo bisogno di qua quasi libero di qua è quasi libero eh sì 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 qui è un po' più tappato lei è quasi libero qua è quasi no invece ma non si preoccupi è tutto adesso ma quello che mi avevi fatto in testa dove sta no il capello è un attimo sopra il capello no eh mi serve guarda i picellini le mucchine gli asini che votano guarda sì 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 ma per favore cosa sta facendo lei cosa sta a fare qui per favore allora perché su tutti i giochini questo sta giocando poi abbiamo bisogno di questo e poi avremmo bisogno di questo qua bello direi di averlo scosato per favore metta a posto lei metta a posto allora abbiamo qua il nostro no questo non mi ci serve la finitura adesso allora abbiamo bisogno di vabbè ci sono più ci sono più specializzanti allora non si sente rispira un po' eh sì sì ma manco il secondo sì 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 questo è covid ecco allora questo è quello che ci condurrà alla verità se sì o no positiva e dopo ti va bene ma sono negativa ma dopo ti va bene così dopo un bel scuola è la verità sì 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 tu guarda gli uccellini tu devi guardare gli uccellini ma che uccellini guardi gli uccellini un attimo anzi prima abbiamo anche grazie grazie per favore su una torracciglia una torracciglia dai ho un pedo nel naso dai per favore perfetto metta 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 bene non riesci non te le cacco è perfetto dicevamo che abbiamo bisogno di questo qua si gioca questo pure importante il liquido questo liquido noi lo andiamo a aprire così dopo lo inseriamo all'interno e adesso adesso è qui caro mio dottor loco è qui il diventimento di noi dottori è proprio qua sì sì per favore apri questa cosa che non mi riesce grazie grazie proprio qua ci siamo anche aggiornati e li abbiamo fatto più piccolini più piccolini appositamente per le bambine sono qui no no bisogna farlo su tutti e due dai guarda forza Elena faccia vedere faccia aprire i gasini li fa fare i tirannusauri tutte le cose tutte le cose belline belline come che sensazione le ha dottore qui guardi c'è un divertimento guardi proprio bellino bellino abbiamo finito abbiamo finito ma manco adesso lo mettiamo qui eh su dai adesso lo lasciamo qui per un minutino eh un minutino lasciamo qui guarda guardi lei si specializzi si specializzi per favore minuta prendiamo minuta bene allora per favore per favore dottor Loco mi apra mi apra che qui sta la verità lo mettiamo qui fantastico bene adesso questo il siero della verità adesso lo andiamo a chiudere bene lo pressiamo così ecco qua lo agitiamo bene vuole evitare un po' anche vuole divertire guardi mescolatissimo adesso guardi basta 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 ecco qua la nostra boccettina col siero della verità dobbiamo mettere solo giusto un due tre e quattro ci bastano solo quattro gocce adesso noi qua dobbiamo guardi 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 guarda 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 già è pazzo già adesso quanto tempo bisogna aspettare 15 minuti almeno almeno però però guarda nell'attesa partitina a carte ma dove pensa qua stiamo al lavoro per favore c'è la signora qua che ci deve pagare noi facciamo un servizio gli prepara la fattura allora è passato è una battaglia una battaglia una battaglia una battaglia una battaglia a quattro a quattro a sette b nove h3 colpito basta basta bellissimo e vinco sempre sono grande dicevamo i 15 minuti sono passati possiamo vedere posso guardare voi posso guardare no no ci deve essere il suspense ok mi faccia ruolo di tambure ruolo di tambure ruolo di tambure il risultato del test vediamo SL SL eeeh sei negativa negativa domani a scuola ben per te meglio così eh meglio ma per fortuna vicino a te c'è il dottor crazy e da oggi che fortuna dottor loco 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 lui è proprio loco guarda io sono crazy ma lui è loco proprio davvero la fortuna che me lo sono lui poi c'è anche lui eh sì ecco forza e per questa tosse che gli posso dare dottori si si va benissimo quello della televisione un minuto fa l'ho fatto due minuti fa si si quello va bene basta uno sciroppino e passa tutto qua eh allora ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un like iscriviti al canale e un saluto a tutti dalla Boom Boom Family ciao ciao